Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente della Repubblica di Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, la quale ha successivamente incontrato il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Nel corso dei colloqui, ha precisato una nota della Sala Stampa Vaticana, sono state rimarcate le buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e Malta, soffermandosi in particolare sul contributo peculiare della religione cattolica nella formazione dell'identità del Paese e sul ruolo rilevante che la Chiesa ha nel favorire il progresso umano e culturale della società. La conversazione tra i due è quindi proseguita con uno scambio di vedute sulle principali questioni di carattere internazionale e regionale, anche in vista della prossima presidenza di turno maltese dell'Unione Europea. In primo piano ovviamente l'emergenza immigrazione, i conflitti nell'area mediterranea e l'importanza in questo contesto di crisi del dialogo tra religioni e culture. Grazie a tutti.